ciao a tutti amici del canale satori e ben ritrovati finalmente una novità a livello mondiale oserei dire i transiti fatti con i tarocchi e qui con me ho il piacere di introdurvi una grande professionista di questo magico mondo del tarocco che è simona mameli ciao simona ciao allora è una cosa che che non si è mai vista probabilmente o io non l'ho mai vista la lettura dei transiti attraverso il tarocco specifichiamo che questi transiti sono basati sui cicli lunari e non su sui pianeti quindi avremo a che fare con tutta la dimensione di un inconscio di un qualcosa di occulto di notturno e anche tutta la parte delle motività di una grande motività che è quella della luna e quindi anche il richiamo dell'archetipo materno iniziamo subito i transiti della luna nuova partiranno il 15 quindi baseremo la lettura usando la data di nascita che è praticamente il campo dove io e simona ci sperimentiamo tutti i giorni con le persone e quindi iniziamo visto che c'è un 15 9 2023 l'inizio di un qualcosa di nuovo che ci propone la luna la luna nuova appunto e quindi quando ci siamo trovati a fare questa questa cosa questo questo grande esperimento abbiamo notato entrambi che la chiave di svolta di tutta una situazione che ruota attorno è proprio una giustizia quindi iniziamo subito e intanto ti chiedo simona di parlare un attimino di questa giustizia all'interno del transito ma anche a livello generico di che cosa ci può indicare questo arcano in questo momento ok sì allora intanto mi piacerebbe anche partire da quella che è la data di questa luna nuova giusto per spiegare le energie principali che poi si dovranno sviluppare grazie all'aiuto di questa giustizia che sta proprio nel punto più conflittuale della mappa del 15 9 2023 il significato che mi verrebbe da riassumere della data di questa luna nuova è 15 abbiamo quindi la carta del diavolo va bene se metto le carte sì magari il 9 la carta delle remite al mese di settembre è il 7 il carro del mese il significato principale di queste tre carte è quello di quanto siamo in grado di prenderci la responsabilità di andare a portare luce con l'eremita e con il diavolo che sono due carte che hanno comunque due due fuochi eh quanto siamo in grado di di prenderci la responsabilità di andare a illuminare quelle parti oscure quelle parti d'ombra di cui spesso abbiamo paura e di cui spesso non ci vogliamo prendere la responsabilità quindi partendo da questo che è un po' il desiderio l'obiettivo che questa luna nuova ci richiede quindi ehm dobbiamo mettere dei semi per poter far germogliare germinare eh questo questo fuoco anche questa passione di questo diavolo e la giustizia come ci può aiutare sicuramente in questi giorni ehm potrebbe essere difficile vedere chiaramente eh la direzione vedere chiaramente le cose eh potremmo entrare in una dinamica di giudizio sempre con questa giustizia ve la faccio vedere qua e e quindi la giustizia ci invita a un po' come faceva la De Amat a soppesare che cosa è realmente bene per me qual è la vera la giustizia perché la giustizia vediamo che è con il suo gomito imbroglia cioè manomette la sua bilancia questo a significare che eh lei segue la giustizia del suo cuore non la giustizia dettata dall'esterno da qualcun altro quindi intanto questo è secondo me il significato principale il prenderci la responsabilità di guardarci dentro di portare luce in quelli che sono le le nostre ombre in quelli che sono i nostri demoni e cercare con questa giustizia di andare verso quello che è giusto per noi in questi giorni Cos'altro ti viene da aggiungere rispetto alla giustizia? Beh intanto ehm una cosa molto interessante della giustizia eh che potrebbe magari sottolineare nel ciclo della luna nuova una componente potrebbe anche essere un po' quello di vedere la giustizia in ombra quindi il suo lato un po' più eh diciamo così spigoloso che è comunque dettato da una troppa rigidità che rischia di imprigionarla in una sorta di prigione a livello mentale dove è come se fosse dicotomizzata tra la parte spirituale e la parte materiale questo ovviamente è come se la portassi in una dimensione di avere delle difficoltà ad entrare in contatto con i propri bisogni e in questo momento visto che è l'inizio di un qualcosa di nuovo e dopo riprenderemo in mano questo inizio poi con il bagatto c'è l'invito da parte del transito di prendersi del tempo e dello spazio un po' come ne ha bisogno l'eremita di fare una sorta di pulizia e di tagliare eventualmente tutto quello che non le serve abitudini schemi paradigmi delle relazioni per esempio eh oppure tante altre cose ovviamente questo non è che avviene magicamente dal giorno alla notte ma prevede un lavoro che perduri nel tempo e quindi questo qua è il momento per iniziare una sorta di introspezione per fare della pulizia ok quindi sto a contatto con quello che è per me quindi con la mia verità dopo di che posso fare anche quell'azione di taglio che mi permette di andare oltre quindi il rischio è quello di avere una giustizia troppo chiusa troppo perfetta nei suoi ideali che non le permette di entrare in contatto con se stessa il tempo sì sì certo e di arrivare a beh certo chiaro anche perché noi magari potremmo dare per scontato alcune cose ma magari una cosa la specifico io il tarocco è evolutivo quindi è sempre un qualcosa che va avanti non è mai un qualcosa che torna indietro l'unica cosa che torna indietro siamo noi che ci agganciamo a quel passato e che magari riviviamo perché l'esperienza della vita ci ripropone non dico le stesse dinamiche affinché noi riusciamo a risolvere però non ci andiamo molto distanti da questa cosa quindi l'invito è di che cosa hai bisogno qual è la tua verità che sono le domande che che pone la giustizia non soltanto a me a simona ma a tutti quanti quindi sia per noi due sia per tutti è un qualcosa che c'è nel campo in questo momento poi il 16 magari cambierà completamente l'energia perché ovviamente cambia data cambiano gli arcani all'interno di una mappa e quindi anche le frequenze poi si muovono però siccome è l'inizio da qualche parte dobbiamo anche iniziare a fare questo lavoro no simona mi verrebbe anche la giustizia sia a livello numerologico quando siamo nel grado 8 il grado 8 ci richiede un momento di silenzio tutti i numeri pari eh ci richiamano all'ascolto all'introspezione e quindi questo grado 8 ci dice un po' ci rimanda il concetto del buvei eh del taoismo in cui un fare nel non fare quindi uno stare in silenzio e aspettare che le cose emergano non non facendo niente ma stando in un ascolto che è attivo e che mi permetta realmente di potermi connettere a quella parte profonda che è strettamente connessa a loro due e un altro concetto importantissimo di questa giustizia è collegato proprio all'idea di perfezione quanto sono in grado di tagliare con la mia spada eh l'attaccamento all'essere perfetti quell'attaccamento che poi in qualche modo non mi permette neanche di iniziare che è un altro dei temi principali all'interno di questa data numerologico quindi se io rimango troppo attaccato a quell'idea di perfezione che devo avere non riuscirò a iniziare e non riuscirò nemmeno con questo diavolo a mostrarmi per quello che sono a mostrarmi alla luce del sole quindi continuerò a reprimere quelle parti che questa giustizia giudica terribilmente e e non gli permetterò di esprimersi ma in realtà l'energia di questo giorno 15 con questo diavolo è passione è potere magnetismo eh ma se sto qui come dicevi tu prima nella rigidità quel diavolo non avrà la possibilità di esprimersi. Infatti tu ehm citavi eh questa tecnica taoista del Wu Wei e mh è importante questa cosa del non fare per fare perché potrebbe anche essere eh malinterpretata quindi interpretata non nel modo corretto. Ehm il non fare non significa a starsene in casa tutto il giorno così aspettando che la provvidenza divina ci illumini dall'alto consegnandoci anche la via da intraprendere per fare un qualcosa. È secondo me eh tutto quell'aspetto che i più grandi scrittori come Gurdjieff, Brizzi parlano di autoosservazione. Quindi osservo quello che c'è nel campo prendendo anche distacco da tutto quello che sono io. Quindi è come se mi autoosservassi da fuori e sto lì in silenzio a vedere cosa si muove anche in tutta la mia emotività, in tutte le mie sfere, dalle relazioni con il partner alla relazione nel lavoro, con gli altri, con i genitori. Quindi è un momento altamente introspettivo che richiede necessariamente una certa sacralità per entrarci nella modalità corretta. Quindi non fare significa non fare niente, significa semplicemente concedersi del tempo per osservarsi. Da lì la chiarezza di quella giustizia che quando ha compreso chi è può manifestarsi e quindi può anche tagliare tutte quelle cose che non le servono. Un po' mi verrebbe da proporre la metafora di una pianta. Quando cresce a un certo punto devi tagliare dei rami perché l'albero o la pianta cresca dritta. Sennò il rischio è che una pianta vada da una parte e dall'altra e che non vada su in verticale. Quindi è questo per me l'invito che pone la giustizia. Anche in questo non fare, ciò che il grado 8 ci richiama è proprio quello di imparare quella che è l'accoglienza, l'accettazione e questo credo sia il passaggio più complicato di questo grado numerologico perché quanto sono in grado di accogliere, di fluire e di stare nell'armonia con tutto quello che è attorno a me. È la cosa più difficile da fare, però per farlo tu comunque devi stare fermo. Cioè non c'è bisogno che fai grandi cose, ma riuscire ad accogliere che che quello che sta arrivando, che quello che mi sta succedendo è la cosa giusta per me, per la mia evoluzione, per la mia crescita, lì è proprio il succo della questione. Quanto siamo in grado di accogliere e di fluire anche perché è un 8, quindi c'è l'infinito, è la lemmiscata, ci richiama a una simbologia interessante. Potrebbe avere anche delle sfumature che possano prevedere, poi non lo so secondo te Simona questa cosa, anche il darsi una regola in questo momento, darsi comunque un cosiddetto piano di lavoro, quindi non l'anarchia più totale, dove faccio magari 800 milioni di cose, però in realtà non ne faccio neanche una, ma porsi una sorta di scaletta, anche scritta, per chi magari può avere anche delle difficoltà a darsi un ordine, e vedere di dedicarsi del tempo, perché anche la questione del tempo è importante, che è comunque collegato all'accoglienza. Cioè io per accogliere e per non entrare in reattività ho bisogno di tempo, ho bisogno di tempo per stare con me e per avere chiarezza anche, che non vuol dire che devo accogliere la qualsiasi, perché poi l'accoglienza per tutti noi avrà miliardi di sfumature diverse, quindi ognuno deve trovare la sua in uno spazio di silenzio, che non vuol dire chiudersi in casa e non parlare più con nessuno. Significa concedersi del tempo all'interno della propria giornata e vedere che cosa c'è in quel momento, stare con quello che c'è, perché è molto importante, se no il rischio della giustizia potrebbe essere di vivere con l'idea della perfezione e quindi è come se si vedesse nella sua idea di chi vuole apparire e non si vede realmente per com'è. So che è un discorso un po' tutto articolato e la lingua del tarocco è un po' magica ed è un po' anche ignimatica, non è subito chiara, ci vuole un po' di tempo per adattarsi, per accogliere questo linguaggio che comunque non è il linguaggio d'uso comune, ecco mettiamola così. Quindi le parole chiave della giustizia quali potrebbero essere Simona per riassumere questo questo grande concetto? Intanto osservare come si muove il nostro giudizio, trovare degli ancoraggi con la realtà secondo me è importantissimo, allora non mi piace tantissimo incasellare le arcane delle parole chiave perché un po' mi sembra quasi di rientrare dentro la giustizia stessa che incasella tutto molto precisa, molto perfettina. Quindi forse mi viene più da lanciare degli inviti che ci può fare questa giustizia e quindi trova uno di questi inviti può essere trova degli ancoraggi che ti aiutino a guardare la realtà così per com'è, osserva come giudichi te stesso e gli altri e prova a stare nell'accoglienza in questa giornata e nell'ascolto di quello che arriva, di quello che c'è e di quello che è giusto per te. Questo mi verrebbe, non so se ti viene in mente qualche altra parolina. No, io direi che ci siamo, anche perché poi la giustizia la riprenderemo in mano anche quando adesso andremo a toccare altri aspetti della mappa perché è tutto collegato, cioè il fatto che io e Simona facciamo questa cosa insieme perché abbiamo la stessa visione anche di quella che è la mappa. Non è niente di scollegato, cioè un centro dal giorno piuttosto che dal mese o dall'equilibrio non è mai scollegato, è tutto collegato, quindi una parte influenza di riflesso anche un'altra parte della mappa. Quindi siccome abbiamo parlato di giustizia ma abbiamo parlato anche di che cos'è un nuovo ciclo, quale bagatto migliore per iniziare questo nuovo ciclo, quindi con l'uno che è la prima tappa che fa, diciamo così, il tarocco dopo che si incarna attraverso il matto, c'è il bagatto. Quindi il bagatto che è l'inizio di un nuovo ciclo e nella mappa poi lo vediamo nel conflitto base e quindi lo vedrete a sinistra. Che cosa che cosa implica questo bagatto nel conflitto base visto che parliamo di un nuovo inizio? Non so ma lo vuoi dire tu visto che ti è familiare quel numero in quella posizione? Dio boss mi è familiare questo bagatto. Dai io poi aggiungo se arriva qualcos'altro mentre parli. Beh tendenzialmente per me il bagatto visto che è anche il mio conflitto base e quindi chi meglio di me può saper parlare di questa cosa ovviamente facendo esperienza tutte le volte, la difficoltà che magari potremmo avere in questo momento di luna nuova potrebbe essere quello proprio della difficoltà a iniziare a fare qualcosa di nuovo proprio perché magari potremmo avere delle insicurezze, potremmo avere paura, potremmo anche addirittura avere il sentito, la percezione di non fidarci di quello che ci arriva cioè di come noi stiamo ma avremo bisogno magari di chiedere delle conferme fuori per sapere se quell'azione è da fare o meno, se è giusto magari dire quella cosa o no. Quindi il bagatto ha un po' questa incertezza di affidarsi completamente a se stesso. Quindi l'invito invece è proprio quello di iniziare a fare qualcosa di nuovo quindi anche di prenderla con uno spirito giocoso visto che il bagatto potrebbe essere interpretato anche in una metafora come un bambino. Il bambino è proprio colui che gioca e se ne frega altamente di tutto quello che c'è fuori è come se fosse collegato nel momento presente. Quindi soprattutto adesso potrebbe essere una difficoltà questa cosa dell'uno ma magari se lo guardiamo da un'altra prospettiva come il 12 per esempio potrebbe essere invece quella miccia che fa accendere poi anche quel diavolo. Quindi io un po' ho detto. Adesso ti lascio dire anche qualcosa a te che... Ma i concetti principali secondo me del bagatto li hai spiegati abbastanza. Però sì trovo molto affine la cosa del mantenere la presenza. Sono tutti arcani che ci richiamano alla presenza. La giustizia ci guarda dritti negli occhi. Quindi tutte le carte dei tarocchi che ci guardano in faccia che hanno gli occhi di fronte a noi ci stanno dicendo che c'è la necessità di tornare a noi, di tornare in un ascolto, di stare nella presenza. Il diavolo è lo stesso. Il diavolo ha un po' gli occhi storti però comunque ci richiama gli occhi storti anticamente soprattutto nei teatri antichi, le vecchie maschere, io mi riferisco a quelle del teatro kabuki giapponese per dire, avevano tutti gli occhi storti perché si pensava nelle filosofie orientali che gli occhi storti aiutassero a guardarsi meglio dentro. E quindi quelle maschere rappresentavano proprio questo. Il diavolo me le ricorda tantissimo. Quindi c'è davvero tanto un invito alla presenza, all'ascolto di sé e poi c'è da dire che questo diavolo è la carta della passione. Se lui non vive la passione si spegne completamente come se fosse un interruttore on off. È l'unico modo che ha questo diavolo stando alla numerologia di questa giornata qua per emozionarsi, per accendersi, per entusiasmarsi iniziare qualcosa di nuovo. Quindi magari posso avere delle difficoltà con quel bagatto a iniziare qualcosa di nuovo perché posso avere tremila idee. Un po' l'energia di questa mappa rimanda anche alla dispersione. Quindi se il quindici sentiamo tanta dispersione non ci preoccupiamo è l'energia del giorno ma è importante che cerchiamo di mantenere quella centratura e che mettiamo un seme che sia anche piccolo che poi anche il significato di quella che è la luna questa luna nuova ma che facciamo una piccola azione che ci permetta di mettere un intento verso quello che verso quella che sarà la nostra direzione perché comunque il bagatto in potenza ha tutto. Cosa scelgo? Con cosa inizio? Che cosa? Quale sarà lo strumento per andare verso la mia passione? E quindi magari l'invito può essere proprio quello di scegliere uno strumento che è più affine e congeniale con noi. E allora una persona potrebbe dire sì ma come faccio a scegliere lo strumento? Premesso che non c'è una risposta a questa domanda però l'invito che potrebbe essere rivolto alle persone che si pongono questa riflessione potrebbe essere anche quella di chiedere alla giustizia. Quindi in un momento di raccoglimento di introspezione tra la tutta confusione che ho sul tavolo che ho tutti gli strumenti però non so quale scegliere ecco che improvvisamente so esattamente qual è lo strumento da prendere nelle mani per agire. È bellissima questa cosa perché possiamo usare i tarocchi per giocare. Intanto mi viene da dire anche come faccio a sceglierlo? Utilizza l'energia del gioco, sperimenta un po' quello che dicevi tu prima no? Che vada bene o che vada male non è importante. L'importante in questa giornata per l'energia è proprio quello di iniziare qualcosa, di muovere un primo passo, di lanciare un'intenzione ma ancora possiamo utilizzare la saggezza del tarocco per andare a chiedergli dei consigli. Quindi mi metto di fronte la carta del bagatto, la guardo, la osservo, mi prendo quei cinque minuti per stare qui insieme a questo personaggio. Che cosa colpisce la mia attenzione? Il primo oggetto che colpisce la mia attenzione qua abbiamo un bastone, abbiamo una moneta, abbiamo delle coppe, abbiamo delle spade, abbiamo tutti i semi. In base a quello che il mio occhio vedrà all'interno di questa carta potrebbe essere un invito sullo strumento su cui giocare, con cui giocare su cui sperimentare. Quindi in realtà le carte ci danno, ci danno tanti strumenti possibili per andare a osservare quello che potrebbe essere giusto per noi. Assolutamente, come una piccola specifica per chi magari non è a conoscenza del linguaggio del tarocco, per esempio le spade, i bastoni, le coppe, i denari sono riferiti poi in maniera speculare con il mentale, per esempio delle spade, l'emotività, per esempio delle coppe è il cuore, quindi tutta quella parte emotiva molto forte, i bastoni sono legati per esempio all'energia sessuale creativa, che non è l'energia genitale, quella è un'altra cosa. Poi abbiamo i denari. Ci rientra anche lei, dai. Ce la mettiamo per non far sentire escluso nessuno. E poi abbiamo i denari che quindi è il campo della materia, quindi tutto l'oggetto fisico, dai soldi a tutto quello che possiamo avere a casa. Quindi scegliete voi in base a quello che vi risuona di più lo strumento da utilizzare, ma anche nella spensieratezza di quel bambino che sperimenta per imparare. Il bambino impara giocando, l'adulto non gioca più tantissimo, fatti altri tipi di esperienze un po' più dolorose. Mentre il bambino si gode il momento e quindi è catapultato proprio come l'animale nel qui ed ora, si gode quello che c'è, poi impara anche qualcosa, relazionandosi con se stesso, con gli altri, con tutto quello che gli sta intorno. Quindi va bene le insicurezze, vedete anche tutto l'altro aspetto in luce del bagatto che è comunque quello di iniziare lo stesso. Poi qualcosa si muove lo stesso nel campo, non è che non si muova. Quando noi ci muoviamo anche tutto lo scenario attorno proprio come una sceneggiatura teatrale si muove con noi. È incredibile questa cosa ma dovete sperimentarlo perché non fidatevi di quello che vi diciamo, sperimentate voi, anzi fateci sapere sotto se avete provato questo genere di situazioni. Ma visto che parlavamo anche di un qualcosa che accende e nel 15 troviamo come mostrato in precedenza un diavolo, che cosa ci può raccontare il diavolo in questo giorno? Allora, in realtà credo che uno dei significati principali e gli obiettivi di questa giornata sia proprio quello di tirar fuori chi siamo davvero, di prenderci la responsabilità di noi stessi, ma non solo di noi stessi, anche di quella che è la nostra ombra. Perché avendo una giustizia, avendo un diavolo, avendo un'eremita, cioè sono tutte carte che illuminano e ti dicono guarda che anche se fai finta di niente sei comunque responsabile delle tue ombre, anche se queste agiscono e tu non te ne rendi conto. Dalle semplici dimenticanze è una tua responsabilità. Quindi intanto uno dei concetti principali di questa giornata, con questi numeri così potenti, così forti, mi viene proprio da dire col diavolo che sia quello di prenderci la responsabilità di chi siamo e di manifestarlo nel mondo. Per poi arrivare nel 22, che all'interno di questa giornata questa carta è quella che compare di più, quindi direi che uno degli obiettivi è proprio quello di arrivare al matto. Quindi sono chi sono, vado in giro per il mondo e mi godo il viaggio. Quindi il diavolo in questo giorno lo leggerei in questo modo, non so se ti viene in mente qualcos'altro. Beh sicuramente tu facevi un riferimento prima al diavolo rispetto alla propria capacità di viversi e di sentirsi anche un'emotività e quindi un'accensione. Quindi nel momento in cui c'è un diavolo spento, quindi dove non ci sono passioni, non ci sono desideri, non c'è magari anche tutta quella parte di sessualità che comunque è intrinseca nell'energia, nella frequenza del diavolo, il rischio è quello di fare un piccolo richiamo alle cinque leggi biologiche, ma che non è detto che per forza possa essere così, è quello magari riferito al morto emotivo. Quindi una persona che è completamente lì con gli occhi sbarrati e non sa neanche lui dov'è. Quindi è fondamentale invece entrare in contatto con questa cosa, con questa frequenza e viversela, ma viversela pieno. Quindi entrare in contatto anche con tutta quella componente sessuale, con tutta quella componente di desiderio, di anche volersi mostrare al mondo. C'è anche tutta quella componente legata all'inconscio, quindi a quelle due figure che potrebbero essere identificati con dei legami. Visto che quelle due figure poggiano comunque su una striscia nera, il nero potremmo tradurlo nell'inconscio, ci sono degli legami magari anche inconsci che potrebbero avere dei risvolti anche nella vita della pratica di sentirsi comunque legati. Un legame su tutti potrebbe essere quello dei genitori, per esempio, che è un qualcosa di molto assodato, di molto anche se vogliamo pesante da un punto di vista legato all'esperienza che il figlio fa poi nel mondo. Perché è come se si portasse dietro comunque le memorie dei genitori. Ecco, per me il diavolo è il farsi vedere, cioè lui si prende gioco sia degli altri sia anche di se stesso, secondo me. Quindi non si prende mai troppo sul serio, ma comunque anche lui come padrone del mondo, visto che poggia i piedi su una sfera ed è tutta anche la sfera materiale, è il suo mondo c'è la necessità di innalzarsi e quindi anche di mostrarsi agli altri, anche nella propria luce, perché potremmo per esempio tirare in ballo il fatto anche che il diavolo è un arcano che parla anche di terapia. Essendo un portatore di luce, un portatore di conoscenza, mi verrebbe da fare così un grosso pensiero che magari ci potrebbero essere delle persone che hanno a che fare con nelle relazioni d'aiuto, per esempio, che potrebbero anche sentire una maggior propensione di persone che chiedono aiuto. Proprio perché a te? Perché riconoscono in te quella qualità, quel talento magari anche di ascoltare e che non devi dire ma perché io forse attiro solo casi umani. No, è perché magari l'altro inconsciamente ti riconosce delle tue qualità, quindi magari avendo a che fare con questa cosa ti mettono anche nella posizione di mostrarti anche, di saper tirare fuori qual è il tuo potere nascosto. Conta che rispetto a questo la lettera ebraica del diavolo è Samech, che si può anche tradurre come l'isca del pesce, no? Io ho notato tantissime volte che ha dei diavoli importanti, lavora tanto con l'osteopatia, con la postura, perché proprio riguarda quella che è la struttura. Quindi nel 13 prendo quali sono realmente i cardini della mia vita, ma col diavolo io quella roba l'ho sedimentata e quindi le persone che soprattutto un 15-9, poi conosco diverse persone nate in questa giornata e sono tutte psicologhe, quindi quello che hai detto torna tantissimo, ma perché sia il 15 che il 9 sono due carte, il 9 con questa lampada qui illumina, quindi più illumino dentro di me, più sarò in grado di poter aiutare gli altri a comprendere se stessi e il diavolo amplifica questa visione e con la sua osatura, con la sua struttura ci arriva il suo potere, lo emana proprio. Quindi questo è il potenziale che in questa giornata tutti possiamo andare a sentire, a percepire, a vivere se ovviamente viviamo i numeri in questa polarità, perché appunto ogni carta, ogni numero ha tutto un range di possibilità su cui può muoversi in base a quella che è la mia, al mio livello di consapevolezza, al mio livello d'essere. Ecco per questo secondo me il tarocco non è mai definibile in modo assoluto, proprio perché a seconda del livello di consapevolezza, coscienza che ha quella persona, vedrà dei particolari magari anche nella carta, sentirà qualche percezione diversa che prima non riusciva a vedere, non perché non ce la facesse, ma perché quel livello non gli permetteva di andare oltre. Quindi non potremmo dare milioni di definizioni di che cos'è il diavolo, la giustizia, il matto, il bagatto e tutti gli altri arcani, però ognuno di voi troverà una sfumatura particolare che gli calzerà più a pennello in quel momento che racconteranno delle cose. Quindi voi comunque fate riferimento a due persone che il tarocco lo masticano, non è detto che voi possiate trovare anche altre sfumature riguardanti questi arcani. Quindi sperimentate come fa il bagatto e accendete anche la vostra passione, accendete i vostri desideri, anche perché il diavolo è androgino, quindi ha la sua polarità femminile come la sua polarità maschile e le mette insieme, quindi potrebbe essere anche un uno. I due legami sotto potrebbero rappresentare tutta la dualità, mentre il diavolo potrebbe rappresentare anche un'unità. Non è detto che sia così, però io ci vedo anche questo, quindi ognuno di voi vedrà quello che gli è più congeniale. Ma tornando al portatore di luce che è il diavolo, troviamo anche poi di conseguenza un'eremita nel mese, che anche lui è un portatore, magari non è così appariscente come potrebbe esserlo nel diavolo, ma potrebbe anche stare un pochino un po' più ritirato, anche perché il termine eremita fa pensare anche a quell'aspetto, che non è soltanto il fatto di starsene da solo sul cucuzzo della montagna, perché sappiamo bene che anche Zarathustra dalla montagna scese per entrare a contatto con tutte le persone. Quindi quali potrebbero essere le domande che potrebbe porci un'eremita in questo giorno, per esempio Simo? Ma intanto essendo il numero del mese è un po' la nostra risposta a una situazione emotiva a cui non riesco a dare una soluzione. Quindi osserviamo le nostre reazioni in questa giornata e l'eremita ci ci rimanderà la tendenza di chiuderci, di proteggerci, di o vivere la crisi o e aver paura della solitudine o che ci può spingere a fare diverse cose questa paura della solitudine o a cercare costantemente compagnia perché ho paura di stare solo, paura di entrare in quella che è la mia intimità, oppure a stare solo totalmente, a chiudermi in un angolino nel mio antro, non uscire più e non voler vedere nessuno. Queste sono le due polarità che ci può portare l'eremita. Quindi l'invito e le domande che ci può fare in questa giornata sono quanto sei a contatto con la tua stessa intimità e quanto permetti agli altri di entrare in contatto con la tua intimità? Cioè perché se guardiamo anche la carta, guardate quanto è coperto, quanti vestiti ha? Cioè da qui che arrivi al nocciolo ce ne vuole, devi togliere un sacco di strati. Quindi quanto sei in protezione rispetto agli altri? Quanto ti fidi dell'altro ma anche di te stesso in primis? Perché se non ti fidi di te stesso non sarà possibile fidarti degli altri. E qui sono carte in cui ci si mette a nudo. Quindi l'eremita mi verrebbe questo come energia associata anche alle carte che ci sono attorno. Anche perché visto che inizialmente abbiamo fatto riferimento ad una giustizia e parlando anche di una consecutività nel tarocco, potremmo anche dire che l'eremita ha la necessità di mettere in discussione tutto quello schema, cioè tutto il suo passato, per l'evoluzione che ha poi nel 10, nell'11, nel 12, nel 13 e così via fino ad arrivare al 21, è funzionale secondo me che l'eremita ad un certo punto si distacchi da quel modello per vedere qual è per lui la sua sintesi di vita, cioè che cosa rappresenta per lui quella cosa, quell'esperienza, quel modo, quella relazione, quel lavoro. E' chiaro che entrare in crisi potrebbe portare comunque non certamente una serenità ed una tranquillità, potrebbe essere che vi porti anche della confusione, potrebbe essere anche che vi porti a entrare in contatto con un dolore, per esempio, o a quella parola magari chiave, tra virgolette, che è l'incomprensione. Magari non mi sento compreso dagli altri, quindi posso avere anche la via di fuga, di allontanarmi. Però è importante, come ci ricorda la giustizia, qui, ora, di che cosa ho bisogno. E' bellissima questa cosa, perché in realtà se le vediamo insieme, 8 e 9, cioè se lui rimane attaccato all'idea di perfezione della giustizia e non si affida al futuro, vive in automatico la crisi. Ma se invece mi permetto di stare in questa giustizia, di stare nell'accoglienza e con l'eremita entro con molta fluidità in questo processo, magari vivrò una crisi, sì, perché l'eremita è la carta della crisi, ma la crisi sappiamo che è funzionale per poter evolvere. Quindi spesso il 9 è associato al serpente, quindi come i serpenti, il momento in cui io faccio la muta, me ne sto lì, fermo, e poi nel momento in cui ho fatto la muta ricomincio il mio percorso. L'eremita ci rimanda esattamente a questo, ma se noi prima non lavoriamo su quell'energia del lotto, ed è per quello che l'abbiamo portato come primo argomento della giornata, perché è come se fosse la chiave di volta di questa giornata la giustizia, che ci può aiutare a entrare in tutte le energie della mappa di questa giornata per poterla vivere al meglio. E quindi il lavoro di base è proprio su questa carta qua. Anche perché l'eremita ha questa componente di affidarsi alla vita, perché come è visto nella carta, lui comunque dà le spalle per andare avanti. È come se camminasse all'indietro. Guarda comunque il passato, ma continua ad avanzare guardandogli le spalle. È chiaro che non sa cosa trova dietro di lui, però l'affidamento potrebbe essere anche questo. Affidarsi anche se non conosco cosa c'è dietro, o cosa in realtà c'è dietro, ma cosa c'è davanti a me. Quindi l'affidamento a volte è mollare tutto un passato per andare verso il futuro, però stando nel presente, stando qui e ora, proprio come il bambino, proprio come quel bagato che troviamo nel conflitto base della mappa. Visto che poi abbiamo parlato di avanzare, quindi di movimento, nell'anno troviamo un 7. e quindi è anche, come dicevi tu inizialmente, in che direzione voglio andare. Qual è la mia direzione? Cioè qual è il mio obiettivo? Ce l'ho ben chiaro, sempre richiamando poi quella benedetta giustizia, ho chiaro dentro di me dove voglio andare, qual è il mio bisogno. Voglio avanzare nella relazione piuttosto che nel lavoro, piuttosto che da solo. quindi cosa ci può suggerire anche il 7, per esempio, Simo? Mi viene sempre in mente una storiella, adesso non ricordo il nome, è la storiella del cavaliere con l'armatura arrugginita, un nome simile. parla di questo cavaliere che aveva un'armatura tutta arrugginita, non riusciva a muoversi bene, andava avanti nel suo errare, un po' affaticato da questo peso, finché a un certo punto non incontra tutta una serie di personaggi che cominciano a dirgli, ma scusa, perché non te la togli quella roba pesante che hai addosso? e piano piano, personaggio dopo personaggio, per una vicenda o per un'altra, arriva a togliersi questa armatura e si rende conto che senza quell'armatura e senza tutti quei pesi addosso, il suo movimento è molto più fluido. Ma anche la sua mente, tutti i suoi centri sono più lucidi e presenti, perché non c'è più quel peso. Quindi carro e giustizia insieme, mi arriva un po' che quando sei in grado di lasciare tutti quei pesi, tutte quelle responsabilità che ti stai mettendo sulle tue spalle, perché magari in questo momento non ti servono e soprattutto di chi sono quei pesi che hai sulle spalle, perché se sono tuoi un conto, ma se quei pesi sono di qualcun altro, e poi chi si prende carico dei tuoi? Dove sono i tuoi? Ed è qui la direzione, no? Quanto sono in grado di essere realmente protagonista della mia vita? Guardatelo come è seduto su questo carro, cioè ha un braccio così, è lui che decide, è lui che è il protagonista, non ha neanche le redini, non ne ha bisogno, perché la sua intenzione è così tanto potente, così tanto forte, che arriva ai cavalli. Ma quando non c'è questa connessione, guardate la linea rossa come separa la carta in due, questo carro è totalmente dominato dai suoi istinti e fa delle azioni impulsive, quindi attenzione a questa impulsività, di nuovo il richiamo alla presenza di prima. E chiediamoci anche quali pesi e quali carichi ci portiamo sulle spalle che non sono nostri. Fondamentale direi. L'importanza di prenderci la responsabilità di essere protagonisti della nostra vita e tutte queste carte ci rimandano il bagatto, deve scegliere il suo strumento, no? Questa mappa è come se un po' fosse, e ci sta tantissimo come data per una luna nuova, è un po' come se fosse tutto in nuce, tutto in potenza, come se tutto fosse pronto a un'esplosione, a una manifestazione, mi viene da dire. Bisogna solo lanciare quell'intenzione, essere fermi, quindi scegliere il proprio strumento, decidere quale forma mi voglio dare, di conseguenza prendere una direzione che sia coerente e congruente con i passaggi che ho fatto prima, tagliare ciò che mi serve, ciò che non mi serve, è a fidarmi per andare verso quella che è il cambiamento, l'evoluzione. Anche perché ci sono degli aspetti in comune che quel 7 richiama all'1 e all'8, per esempio la modalità in cui è il gomito della giustizia, anche con quelle redini, ma anche con quella linea che taglia a metà quel carro, proprio come il bagatto al tavolo che lo taglia da metà dell'ombelico in giù, per esempio. Quindi che cosa c'è anche sotto? Sotto quella linea che cosa c'è? Visto che i cavalli potrebbero rappresentare più cose, le emozioni, i pensieri, tutta una serie di apparati che, se io non ho le redini in mano, perché sono nel qui e ora, rischiano di trascinarmi nella direzione nella quale magari non voglio andare, ma magari è proprio quello l'invito, se non vuoi andare lì devi stare centrato qui adesso, se no, se non sono io da avere le redini della mia vita in mano, ci sarà per forza qualcun altro che avrà il potere che tu stesso lasci per gestire la tua vita. Quindi il richiamo fondamentale è proprio questo, stare qui e ora e iniziare a governare la tua di vita, non seguendo quello che vogliono gli altri, non seguendo quello che vuole la società, il modello, il sistema, ma seguendo quello che è per te. E per farlo necessitiamo tutti di fare l'esperienza, ognuno diversa dall'altra, ogni esperienza non è giudicabile da parte di un altro perché non vive quella cosa o la vive diversamente proprio perché tutti noi abbiamo un percepito diverso, quindi fate l'esperienza e poi capite che cosa quell'esperienza vi dona come insegnamento di vita. Corretto? Sì, sì, e secondo me abbiamo un papa nello strumento che ci richiama anche molto l'energia del diavolo, ma qui è quanto sei in grado di prenderti rischi? Quanto sei in grado realmente di buttarti in quello in cui credi e di rischiare? Quindi quando sento quel desiderio di cui parlavi prima, no? Io riconosco il desiderio, cioè non lo so, poi sarà che ho un diavolo importante nella mia mappa, quindi la mia pancia parla tantissimo, però ci saranno delle cose per cui ci emozioniamo. Non so, io quando passo di fronte a una pasticceria e sento l'odore di dolce, lì si muove tutto. Quindi nel senso che cosa ci emoziona e ci entusiasma? E quella è la chiave, quanto siamo in grado di prenderci il rischio per andare a soddisfare quel piacere? Perché la vita è fatta anche di piacevolezza, è fatta anche di bellezza, è fatta anche di godimento e se non c'è godimento in questa mappa, cioè, sono tutte carte estremamente goderecce, c'è il diavolo che è un diavolo, quindi sì, tutto ciò che lui desidera va e se lo prende un po', no? La giustizia è lo stesso, è una carta che è quello che è giusto per me, io la sento, una carta che si prende il piacere, lo contempla, lo gusta. Stessa cosa l'eremita, o l'innamorato, che sono tutti i protagonisti di questa carta e ci parlano tutti di piacere, dell'importanza che ha per metterci un po' di piacevolezza. Perché altrimenti entriamo nel sentito di quella giustizia che sente l'ingiustizia, perché cavolo, non è una gioia, si dice. Quindi se c'è questa energia, ricordiamoci che quella giustizia ci sta dicendo guarda che puoi guardare anche dall'altra parte, perché questa è una polarità, è una faccia della medaglia, ma dall'altra parte c'è un'altra storia. Quindi puoi vedere il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno, che è sempre un altro dei temi della giustizia. E poi anche un'altra cosa molto importante collegata sempre alla giustizia che però richiama un po' tutta la mappa è anche quello di quanto mi giudico continuamente per quello che penso, per quello che faccio, perché vorrei fare una cosa, no, questa cosa non devo farla perché è sbagliata, perché ho i pregiudizi, perché vedo le persone fuori che fanno quello e quindi io giudico estremamente sbagliata questa cosa secondo una morale, secondo degli schemi valoriali. Ma chi se ne frega a un certo punto? È quello che è per me. Sento che ho la necessità, il bisogno di, esempio, sento il bisogno di farmi un massaggio e mi concedo un momento per andare a farmi un massaggio. Sento il piacere di condividere un tempo di qualità con una persona e mi dedico del tempo di qualità per stare con quella persona. Bisogna capire è del grosso lavoro da fare in tutta la vita, capire il discernimento, comprendolo e capire quello che è per me e quello che è dell'altro. Perché se no, il rischio di quella giustizia guardi i bisogni dell'altro, non riconoscendo più i suoi, poi romperà i maroni a tutti. Sì, e lei mostrava romperà i maroni, eh? È bravissima. È una delle migliori. Cioè, guarda come appare, è super severa. Quindi, sì. visto che poi abbiamo parlato anche del matto prima, ne parliamo, visto che la personalità profonda di questa data contempla due numeri, che sono il 22, quindi il matto, e l'imperatore, il 4, che se volete vedere anche la poesia di questa cosa, 2 più 2 fa 4. Quindi troviamo delle frequenze che sono molto simili, con sfumature magari completamente diverse, perché incarnano archetipi diversi, ma magari la modalità che hanno di entrare in reazione potrebbe essere la medesima. Che cosa ci raccontano, per esempio, il matto e l'imperatore in questa data, Simona? Essendo la personalità profonda, poi vabbè, ho già fatto il prospetto dei prossimi giorni, e quindi ho visto che questo 4 tornerà come un qualcosa su cui lavorare nel primo quarto. Quindi per adesso è come se fosse anche qui tutto in noce, come se il potenziale, l'essenza di questa giornata sia quella di arrivare a un 4 in 22, a un imperatore, vi faccio anche vedere, con il matto, che mi parlano sia di un concetto di identità, queste sono le due carte, 4 e 22, le mettiamo così, sia un qualcosa che ha a che vedere con l'identità, quindi come parlavamo, quello di cui parlavamo prima, quanto mi permetto di essere realmente me stesso, ma non me stesso che oggi mi sveglio e voglio fare questa cosa e giro a vuoto e faccio, no, matto e imperatore insieme ci parlano di concretezza e lasciarsi guidare da quello che è l'istinto, quindi quanto sono in grado di costruire seguendo l'istinto ma avendo delle solide radici, perché se mancano le radici a questa carta si entrerà come dicevamo prima perché l'energia in questa giornata sarà molto forte in un'energia di dispersione incredibile, perché appunto nel loro lato ombra queste due carte lui non concretizza, non riesce a darsi delle regole, non riesce ad avere la disciplina di cui parlavi anche tu prima e lui gira a vuoto intorno al suo bastone senza concludere niente, quindi attenzione perché questa può essere un'energia ma dall'altra parte ci invita anche a portare attenzione alla presenza e al costruire le cose piano piano, quindi abbiamo visto che la cosa importante è mettere un intento, è un seme ed è il primo passaggio da fare in questa luna perché poi dovremmo andare a portare a concretezza questo imperatore, quindi concretizzare, però è come se ora l'essenza sia quella la direzione verso cui dobbiamo andare lavorando su quella che è la data di nascita è proprio quella di cominciare a costruire piano piano ancorati a quelle che sono le nostre radici, a quelle che sono le nostre origini consapevoli di tutte le nostre dinamiche o se non consapevoli portandoci attenzione facendoci delle domande come se tutta questa mappa è incentrata sul piacere e sull'identità e sull'essere che siamo davvero nella famiglia chi è che non è riuscito a godersi il piacere? Chi è che non è riuscito a essere chi desiderava essere? Perché anche solo osservarlo ci può portare a sciogliere delle piccole cose? Ti viene qualcos'altro rispetto a... Beh, mi verrebbe in mente da porti più come riflessione che come domanda e rispetto all'imperatore per esempio cosa devo cosa devo conquistare ancora che non riesco a riconoscere che ce l'ho già quella cosa? Perché devo sempre fare magari la scalata gerarchica sociale per dimostrare di essere quella cosa lì? E poi c'è tutta quella quell'espressione del matto che magari continua incessantemente ad ascoltare quello che pensano gli altri quello che dicono gli altri stando ai giudizi richiamando poi la giustizia le etichette il matto non si identifica probabilmente in nulla se non in se stesso per farsi la propria esperienza di vita quindi un'altra domanda potrebbe essere che pone il matto è dov'è che ti autosaboti nella tua vita? Dov'è che cerchi continuamente di ostacolarti per non raggiungere quella stabilità di quell'imperatore per esempio? Ed è importante questa cosa? Anche perché nel sociale abbiamo un 16 quindi la cosa che dicevi sulla scalata sociale su quell'imperatore che cioè su cosa basa la sua identità l'imperatore l'imperatore è l'energia del padre e il padre è colui che ci dà le regole ma essendo un numero quattro non è ancora trasformato sono ancora ancorato a delle vecchie idee di come deve essere la mia personalità di come deve essere il mio ruolo mentre invece con il matto entriamo in una dimensione totalmente diversa sono chi sono senza etichette ma se noi stiamo nell'energia di questo imperatore con anche la risonanza di quel 16 che è comunque un 4x4 quindi ha quattro volte l'imperatore dentro può essere che ci sia anche una tendenza a volere con gli altri nella socialità con le persone fare una sorta di scalata sociale erigermi dalla mia torre su un alto spazio o barricarmi nella mia torre per paura che qualcuno possa invadere il mio territorio quindi attenzione anche all'isolamento a quanto ci barrichiamo nelle nostre idee nelle nostre convinzioni ricordiamoci che c'è una giustizia con una spada che taglia tutta questa roba ma dobbiamo permetterle di tagliare perché se non taglia e se non lavoriamo in primis sulla giustizia tutti questi numeri che sono all'interno della mappa li vivremo in maniera negativa negativa è brutto polarizzare così le cose scusate non volevo dire negativo diciamo nel suo lato più d'ombra nel suo lato più involuto quindi potremmo definire questa cosa come se lo vedessimo in una metafora a livello informatico un programma che agisce e noi siamo solamente gli esecutori non coscienti di quella cosa è come se noi fossimo posseduti da quella frequenza di programma ok quindi la difficoltà qual è che parte prima il programma poi ci accorgiamo che quel programma è partito e dici cazzo è troppo tardi questa volta non sono stato abbastanza da riuscire a ma qual è quella cosa che mi permette di fare così adesso nel qui ed ora osservando stando con quello che c'è senza giudizio c'è soltanto da attivare quella parte di responsabilità che non contempla il senso di colpa perché non esiste la colpa esiste semplicemente quelle sono tutte pugnette mentali esiste quell'atto di responsabilità quindi di essere abili a rispondere rispetto anche a quel programma rispetto a quello che la vita mi pone davanti è quello l'essenza e visto che il matto poi ricopre nella dinamica della relazione con il proprio partner un nodo importante per chi ovviamente ha un partner rappresenta quel matto rappresenta una grossa sperimentazione se vogliamo da un punto di vista con il proprio partner quindi sperimentarsi con il partner senza etichette senza giudizi senza nessuna aberrazione da un punto di vista cognitivo mentale mi sperimento e sperimento la coppia per quella che è provo a fare delle cose nuove per esempio che non ho mai fatto vado a fare un viaggio che magari è una cosa che dico questa cosa non me la posso concedere di andare via un giorno di prendermi il tempo di e vado magari via con il mio partner vado a fare un piccolo viaggio anche in giornata andata e ritorno se no il rischio è quello di continuare a sabotare quella relazione perché devo sottostare magari richiamando sempre per la giustizia quell'ideale di coppia che io mi ero prefissato o a quell'idea che mi ero fatto di quella persona e quindi non riusciendolo a vedere per ciò che è lo immagino per come vorrei che fosse voi capite che è un errore della giustizia voi capite che noi parliamo per esperienza di queste cose quindi noi la mettiamo anche sul ridere però tante volte è così e questa cosa magari non viene riconosciuta perché è inconscia la si rende conscia nel momento in cui vai a vedere che cosa c'è nella relazione che cosa ti sottopone davanti quella persona quell'uomo quella donna che cosa mi sta facendo vedere che io non riesco a entrare in contatto con quell'aspetto e non perché io non valga o perché io abbia delle problematiche ma semplicemente perché c'è un livello di consapevolezza che ancora non è avanzato ma per avanzare bisogna fare esattamente quell'esperienza di idealizzarlo magari quindi sperimentarsi e non magari autosabotarsi potrebbe essere un esperimento da fare poi non so se vuoi aggiungere qualcosa riguardante il centro della relazione con il proprio partner beh abbiamo relazione e lavoro e che rispiecchia molto la nostra modalità di fare di agire nel mondo con l'energia del matto ma non solo del matto anche dell'imperatrice quindi qui siamo c'è un'energia molto esplosiva all'interno di questa di questi ambiti qui no perciò l'invito potrebbe essere anche quello di fare attenzione a una comunicazione che sia pulita che sia chiara che sia coerente e congruente perché la tendenza come dicevamo prima a disperdere fortissima in questo giorno è con un'imperatrice magari un qualcuno che ha 3000 idee le vorrebbe mettere tutte in pratica ma poi non riesce a concretizzare o qualcuno che parla 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 e poi non porta a termine niente quindi l'invito può anche essere quello di ciò che penso cerco di agirlo cerco di essere coerente congruente rispetto soprattutto alla comunicazione con gli altri e col partner e soprattutto con la comunicazione che ho io con me stesso eh sì certo perché sempre richiamando questa santa giustizia un aspetto sulla quale potremmo lavorare in questo giorno potrebbe essere anche quanto chiedo anche all'altro rispetto ai miei bisogni perché se io non comunico i miei bisogni all'altro l'altro non è che ha la sfera di cristallo e riesce a intuire o a vedere cosa ciò di cosa io necessito se io non lo metto nella condizione di venirne al corrente quindi anche attraverso quel 16 per esempio una comunicazione pulita efficace verticale manifestando anche quella che è la mia autenticità se no il rischio è comunque quello di chiudersi come parlavi tu prima di arroccarsi dentro ad una torre che potrebbe avere delle sfumature anche con tantissimi ideali dove io rimango lì e non mi concedo poi di entrare in contatto con l'altro ma ci sarà sempre una mia identità che deve venire fuori mentre qui si tratta di fare il lavoro opposto destrutturare un'identità che non vuol dire toglierla vuol dire semplicemente ripulirla da tutta una serie di condizioni che magari nella vita ci hanno insegnato al posto di togliere e di aggiungere qui è proprio tirare fuori l'autenticità con quel 16 se no il rischio è quello di non entrare in contatto con l'altro perché so che prima o poi magari mi separerò da quella cosa e quell'imperatrice invece ha necessità di esplodere un po' come la primavera quando arriva e entra in casa e tu dici uh che aria frizzante che c'è dentro qua quindi ci sono molte sfumature che sono tutte poi riconducibili all'interno della mappa cioè la mappa parla continuamente comunica centro per centro col conflitto col mese col giorno col lavoro è veramente tutto un sistema che funziona all'unisono non c'è un compartimento stagno che non sa cosa fa l'altro a volte si parla che c'è chi con la mano destra non sa poi che cosa fa la mano sinistra qua invece mano destra e mano sinistra funzionano tutti e due esattamente assieme è che noi magari non ne siamo consci di questa cosa poi abbiamo anche il centro del nido e quindi potremmo parlare anche di tutto quell'aspetto se vogliamo familiare o nel proprio ambiente domestico che cosa ci potrebbe chiedere per esempio un innamorato nella nostra casa nel nostro ambiente familiare beh intanto come abbiamo detto prima quanto ti permetti il piacere nella tua vita ma anche che forma vuoi darti chi sei tu cioè per me l'amore mi domanda questo chi sei tu e quanto segui quello che è l'amore nella tua vita non scegli attenzione perché tutte le volte che ci mettiamo nel mentale nell'idea di dover scegliere qualcosa lui si blocca completamente non ha più contatto con quella sua parte che sente con quella sua parte che ascolta con quella sua parte che è connessa al cuore ma entra tutto nel mentale e si separa un po' come questa carta divise in due no quindi le domande che ci pone oggi soprattutto in famiglia poi può essere che rispetto alla mia famiglia con chi ci sono dei legami che sento anche vincolanti perché comunque anche l'amore a questa guardate qua tutte le che sento ambigui possiamo farci questa domanda o ancora ci sono dei rapporti con i miei fratelli e le mie sorelle che richiedono un'attenzione particolare che richiedono un chiarimento perché con tutta questa ambiguità ci bisogna di portare un po' di chiarezza un po' di luce con l'amore quindi l'energia e l'invito per questa giornata mi verrebbero questi ora non so se ti viene in mente qualcos'altro anche aspetta perché c'è anche un altro numero sotto che mi richiama al qual è la giusta distanza relazionale che devo avere con i membri della mia famiglia perché io possa realmente manifestare chi sono questo forse è proprio quello che racchiude tutto anche perché a seguito di questa tua diciamo così intuizione mi riaggancio con il fatto che il nido è formato dalla somma del giorno e del mese e nel mese troviamo comunque un'eremita che necessita di tempi e spazi per sé altrimenti il fatto di essere invaso un po' come un imperatore c'è il rischio che questo dica io vado ciao a tutti ci rivediamo quando ho finito il mio processo quindi qual è la giusta distanza non vuol dire che io devo andare a centinaia di chilometri semplicemente potrebbe anche significare per alcuni di voi che magari sono arrivati a questo punto dell'ascolto della puntata mi prendo magari mezz'ora per dedicarmi a fare le mie cose vado a farmi una passeggiata magari da sola o magari chiedo magari al mio partner ai miei figli di accompagnarmi magari perché ho il bisogno di stare in contatto con loro e quel sai come accennavi tu è proprio il discorso della scelta quanto mi scelgo anche io rispetto al fatto che mi scelgano sempre gli altri magari delegando sempre agli altri questo famoso potere personale che tante tanti scrittori anche ne parlano del potere personale di che cosa sia di come si instaura poi anche nelle relazioni altrui quindi potrebbe anche significare per esempio nel proprio ambiente domestico abbellirlo accendere delle candele visto che c'è anche un diavolo e c'è sempre quel fuoco che arde magari di mettere delle candele capire e sentire cosa mi rimanda quel simbolo tutto è un simbolo e siccome il cervello conosce i simboli benissimo tanto quanto il tarocco è un simbolo perché dentro ad ogni arcano è pieno di simboli potrebbe essere anche questo stare nel proprio piacere a casa concedersi del tempo per farsi un bagno caldo anche se magari fuori non è proprio freddissimo magari aprirsi anche un bicchiere di vino proprio stare anche nel piacere visto che il sei comunque sta nelle proprie emozioni nel proprio piacere cioè è pienamente nelle coppe cioè è proprio nella sua parte forse più pulsante se vogliamo se no è il rischio che come dicevi tu non sono in contatto neanche con quello che mi piace non so neanche che cosa mi possa piacere eh cazzo ma è una gioia qua perché aspetto che sia l'altro a soddisfare comunque quelle cose l'altro magari le soddisferebbe anche quelle cose ma se io comunque poi ritornando a tutti i passaggi precedenti non glielo comunico di verrà difficile per lui entrare in contatto questo mi sento di aggiungere sì sì concordo poi abbiamo anche un discorso legato alla mappa eh ai personaggi e quindi ci avviamo anche verso quella che è la conclusione poi di questo primo transito eh fatto con il tarocco abbiamo l'imperatrice quindi il 3 e il 21 che è il mondo quindi tu facevi riferimento prima a questa imperatrice che ha miliardi di idee ma poi non riesce a portarli nella concretezza e quindi magari nel 4 ehm e un 21 qual è il rischio che possono incolore questi due arcani in questa frequenza 15 9 23 intanto che torniamo all'idea di prima di dispersione con quest'imperatrice che è molto presente all'interno di tutta la mappa di questa giornata eh ma anche ha una sorta di paura per il futuro cioè l'imperatrice si fa 3.000 preoccupazioni con il mondo facilmente entra in una dinamica un po' ossessiva un po' circolare che ripete costantemente no? Quindi possiamo vedere quest'imperatrice che comincia a guardare al futuro e si preoccupa e toglie fuori 3.000 idee 3.000 problemi oddio ma cosa succederà qui e lì e con quel mondo entra un po' ossessione quindi questo può essere una modalità che si può attivare nella maschera per questa giornata e anche un qualcuno che ha un'energia un po' di rompente siamo sempre in 2.3 no? Quindi attenzione al fuoco che ogni tanto esce fuori perché con l'imperatrice appunto facilmente possiamo fare cioè è un'energia che sicuramente non è quella di un numero 1 super potenza super violenza ma anche il 3 ha un'energia abbastanza dirompente quindi comunque rimaniamo sempre centrati e sempre sul presente questa è la cosa che mi viene da consigliare anche qua sulla maschera evitiamo le triangolazioni comunicative in questa giornata ci sono un sacco di numeri che ci parlano di triangolazioni quindi anche a livello di comunicazione se non evitiamo cerchiamo di osservarle e riconoscerle quanto meno anche perché è facile che poi rimaniamo incastrati in questa dinamica triangolare anche con quell'amore lì sotto nella famiglia tra gli amici quindi beh un'altra cosa Simona per esempio che mi sento così di invitarti a magari condividere potrebbe essere quello dell'imperatrice rispetto alla propria comunicazione quando vissuta in soluzione mentre quando è vissuta in modo programmatico nel senso è il programma che agisce al di là dell'aspetto di consapevolezza di quella persona quindi qual è la modalità reattiva rispetto alla comunicazione che potrebbe avere un'imperatrice beh l'imperatrice va qui siamo sul grado tre quindi ovviamente possiamo viverla in diverse polarità possiamo viverla nella polarità più maschile o più femminile quindi nell'ombra quando è nella polarità femminile l'imperatrice taglia completamente la comunicazione non comunica più quindi lì c'è una difficoltà oggettiva se non c'è comunicazione non ci può essere una relazione che sia pulita e quindi molte volte dice delle cose ma ne fa altre non è proprio connessa tra il dire e il fare oppure se lo vive in polarità maschile si distrugge con le parole sa essere estremamente crudele è comunque colei che ci dà la vita ma anche colei che ce la toglie sotto un altro livello quindi e come dicevamo prima l'energia di un tre è molto dirompente perciò nell'ombra possiamo viverla in questo modo l'imperatrice e la maschera tendenzialmente è l'ombra e sono proprio quei personaggi quei lati del nostro carattere che noi nelle diverse giornate in base alle ferite che abbiamo avuto all'interno della nostra vita ci mettiamo addosso per proteggerci quindi io vado in giro con una maschera da imperatrice che o quando qualcuno mi dice qualcosa a cui io non so rispondere o attacco e verbalmente ti distruggo oppure sto zitta e e non comunico più quindi questa può essere l'ombra nella luce l'invito contiamo che se guardiamo la maschera in evolutivo abbiamo un cinque perché noi andiamo per sottrazione a calcolare questo numero ma se noi andiamo sommando abbiamo un papa e chi è il papa colui che comunica ma questa volta essendo un cinque è una comunicazione molto matura rispetto al tre è molto più matura è molto più connessa a quello che è il cuore e quelli che sono i desideri che è l'obiettivo di questa giornata quindi comunicazione di cuore comunicazione non violenta quali sono come mi sento quali sono i miei bisogni e facciamo una richiesta chiara all'altro o almeno proviamo a fare una richiesta chiara visto che hai citato la comunicazione non violenta come non tirare in ballo Marshall Rosenberg che è autore della comunicazione non violenta quindi della CNV e quindi è una nuova modalità di entrare in relazione con se stessi ma soprattutto con l'altro quindi non più deputando all'altro la colpa di non aver fatto piuttosto riferirsi all'evento e di come si è vissuto quell'evento in modo personale cioè ho ricevuto un attacco da parte non so della mia partner del mio partner e posso entrare in una nuova modalità comunicativa dicendogli per esempio guarda l'altro giorno che abbiamo avuto una discussione io mi sono sentito sotto giudizio e questa cosa mi ha fatto sentire inadeguato perché magari sono entrato in una modalità reattiva e quindi è rivalutare quell'evento da un'altra angolazione questa cosa va un po' a smontare tutto quel tenore conflittuale che magari si può essere creato con quella persona con un collega di lavoro con il proprio datore con i genitori con i figli ovviamente se i figli hanno un'età che gli è diciamo qui concesso comprendere quel tipo di linguaggio perché questa cosa qui di parlare attraverso la comunicazione non violenta è un qualcosa da fare come allenamento e ci vuole del tempo soprattutto perché non siamo tarati assolutamente per parlare in modo assertivo di come ci siamo sentiti rispetto all'evento rispetto a noi stessi e rispetto all'altro quindi è più comodo dire ah tu non hai fatto questa cosa quindi vuol dire che tu non mi consideri al posto di dire di come ti sei sentito tu rispetto a quell'evento e quindi cerchi di vedere l'evento nel modo più oggettivo possibile ovviamente secondo anche un grado di consapevolezza che c'è poi vuoi avere ragione come parlava Rosenberg o vuoi essere felice? Ognuno di voi spetta la propria risposta rispetto a questa domanda quindi l'unico modo è sperimentare ovviamente noi vi invitiamo caldamente come detto prima a non seguire pedisiquamente tutto ciò che è stato detto con la fiducia per quanto sia fatto in modo diciamo così buono per portare un messaggio che è quello del tarocco ma è quello di sperimentare voi come vi sentite se incarnate quella frequenza cosa succede se mi concedo il diritto di perché il diavolo nel momento in cui muore non si dà neanche più il diritto di esistere ed è un tema fondamentale questo nella nostra esistenza quanto mi do il diritto di essere ciò che sono quanto mi mostro per ciò che sono rispetto magari a una giustizia che si mostra rispetto all'idea che crede di avere di se stessa quindi ci sono tanti punti che oggi per esempio nel 15 parlano di questo stare nel qui e ora nel momento presente cercare di fare chiarezza nei propri bisogni cercare magari se è il momento di tagliare qualcosa soppesando ovviamente anche quali sono i pro e i contro iniziare anche un nuovo progetto come magari ci suggerisce il bagatto al di là dell'insicurezza che potremmo percepire rispetto a quella a quell'azione che vorremmo tanto fare ma è un'azione che vorremmo fare quindi ci richiama a un carro e quindi a un movimento ci invita a muoverci ci invita ad avere dei tempi per noi degli spazi con quell'eremita parlano di conoscenza parlano di comunicazione parlano di aspetti creativi con quell'imperatrice per esempio quindi direi che come primi transiti c'è un bel lavoro da fare e probabilmente non basta un giorno però sono estremamente convinto di questa cosa che basta iniziare poi ci vuole la disciplina di continuare questa cosa perché fare non lo so la preghiera una volta ogni quando ti ricordi non è che magari serva più di tanto se non il palliativo momentaneo quello che determina il risultato è quanto tempo io riesco a dedicare a me stesso per star bene senza delegarlo in mani altrui ecco questo è il messaggio che io mi sento di darvi proprio perché io sperimento questa cosa tutti i giorni nella mia mappa e probabilmente è anche una cosa che sentirà Simona anzi ti chiedo se vuoi condividere un tuo sentito rispetto a questa data ma anche in base a quello che è per te il fatto di lavorare con la data di nascita usando il tarocco poi sì vabbè intanto questa data ha tanti numeri che richiamano la mia data di nascita quindi in qualche modo ci sono delle energie che mi fanno riflettere quello che volevo aggiungere e che sento molto forte e che credo venga dalla mia signora giustizia dietro le spalle qui con la sua spada è quella di non di non colpevolizzarci una cosa che dicevi anche tu prima no? però anche qui il confine è molto sottile perché si rischia di arrivare a dire vabbè va tutto bene va tutto bene non riesco a fare questa cosa sì va tutto bene invece no dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo vivendo non torturarci se sbagliamo qualcosa ma anzi mettere un'intenzione e avere la costanza di stare in quello che c'è questa è la cosa più difficile di tutte senza torturarsi nel mentre accogliendo e non dando le colpe a qualcun altro o a noi stessi che sono le tendenze che ci possono essere in questa energia quindi questo è l'altro puntino che volevo dare per chiudere quello che riguarda la lettura dell'energia del 15 settembre che sta arrivando e poi mi hai chiesto che cos'è per me lavorare con la mappa e con le persone no? sì per me è una scoperta è una scoperta ogni giorno appunto anch'io ho tanti matti tanti bagatti nella mia mappa e la vivo proprio come un viaggio la scoperta di un luogo le altre persone sono degli spazi che non conosco e che è bellissimo andare a scoprire perché scoprendo quegli spazi entro dentro me stessa e scopro tante cose anche di me quindi lavorare con questo strumento mi sta permettendo di crescere di conoscermi di fare rete di mi porta presenza costante è un lavoro ma è la cosa più bella che potessi desiderare quindi questo è per me il lavoro con la mappa molto bene allora direi che come primo esperimento di transiti lunari abbinati al tarocco direi che per oggi è tutto poi pubblicheremo anche i transiti successivi riguardanti i cicli lunari quindi vediamo come va avanti e quanto ci divertiamo io per esempio oggi mi sono divertito una marea bene quindi per tutte le persone che volessero poi approfondire questa cosa il mio invito o vogliono lavorare in un rapporto uno a uno per esempio con Simona Simona dove ti possono trovare le persone se volessero mettersi in contatto con te io ho la mia pagina facebook e instagram si chiama l'alveare degli arcani possono mandarmi un messaggio lì ci sono i contatti sia telefonici che che tramite messaggio insomma quindi mi posso trovare lì molto bene invece per chi vuole mettersi in contatto com'è a seconda di chi vi risuona di più mi trovate ovviamente su satori il campo delle possibilità sulla pagina facebook oppure su youtube c'è l'indirizzo mail di satori e lì potete trovarmi c'è anche il numero di telefono sulla pagina facebook quindi il nostro invito è proprio sperimentate e buon lavoro perché poi si tratta anche di un lavoro da non vivere ovviamente in modo idealista come potrebbe avere una giustizia ma più in un lato giocoso come potrebbe essere per esempio quello del bagatto ovviamente stando attenti ai propri confini al non farsi andare magari tutto bene ma stare centrati comunque sul qui ed ora mi è venuta in mente una cosa posso dirla certo che devi dirla che è un esercizio bellissimo che io faccio spesso che si potrebbe fare in questa energia della luna nuova è quello di scrivere in dei foglietti gli intenti che abbiamo quindi seminiamo le intenzioni ci mettiamo insieme ai nostri foglietti li mettiamo in mezzo alla terra ci mettiamo dei semi e ci prendiamo cura di questi semi finché non spuntano non germogliano non ci danno frutti o non diventano la pianta insomma che abbiamo scelto nel seme quindi questo come come atto come gioco come può essere può essere funzionale per per dare energia a quelli che sono i nostri progetti le nostre idee molto bene signori per oggi è tutto e buona luna nuova a tutti quanti intanto grazie mille Simona per il tempo che mi hai dedicato e noi ci risentiamo prossimamente e buon lavoro ciao a tutti ciao ciao